Sono Filippo Antonelli, produttore a Montefalco, precisamente a San Marco, della cantina Antonelli San Marco, che è un'azienda di famiglia comprata da mio bisnonno Francesco Antonelli. La mia famiglia è di origine di Spoleto, ma già mio bisnonno migrò verso Roma per esercitare la professione di avvocati. Io ho interrotto quattro generazioni di avvocati, mio trisnonno, bisnonno, nonno e padre, tutti avvocati, e ho scelto di fare l'agricoltore per cui da l'inizio mi sono iscritto ad Agraria Perugia e mi sono lavorato in Agraria e quindi mi occupo di questa azienda. Prima se ne occupavano marginalmente i vari avvocati nelle varie generazioni. L'azienda è stata comprata nel 1881, era una proprietà del vescovo di Spoleto, come molte proprietà dopo l'arrivo dei piemontesi della chiesa sono state messe all'aste e il mio bisnonno l'ha comprata correndo nel rischio della scomunica perché il papa scomunicava chi le comprava, perché non era contento, più o nono. Abbiamo diversi documenti sull'azienda a fine secolo, sono state fatte molte trasformazioni, chiamato un direttore, tutto il fattore, proprio un direttore molto bravo e poi abbiamo i documenti che parlano di cosa si faceva, cosa si coltiva, come hanno fatti i vigneti, quale varietà, sono abbastanza interessanti. Allora il vino non si imbottigliava, sennò a poche bottiglie veniva venduto per lo più sfuso, però insomma si era deciso di puntare sul vino. Un'azienda che è rimasta promiscua per tanti secoli, per tanti decenni diciamo, sempre con un occhio interessato al vino. Poi il vero boom l'abbiamo avuto un po' nel 79, è stata la leva all'ottenimento della doc a Montefalco e abbiamo iniziato a puntare sempre più sul vino, abbiamo iniziato a lavorare qui nel 86 dopo la laurea in servizio militare e anno dopo anno l'azienda è un po' cresciuta, attualmente sono 193 ettari dei quali vitati 55, 45 ettari di bosco, c'è un bel bosco al centro dell'azienda che è un po' il polmone verde, 12 ettari di oliveto, nei fondovalli seminativi e a margine del bosco troviamo un po' di maiali per non farci ma non mancare un po' di salumi. L'azienda è biologica nel 2012, quindi tutti i nostri prodotti sono certificati biologici, siamo ovviamente concentrati sui vitigni del territorio che per fortuna sono numerosi, alcuni più specifici, alcuni meno e quindi ovviamente il sagrantino e poi come il rosso sangiovese che comunque in Umbria la verrà più diffusa a partire dall'Ottocento e poi stiamo molto crescendo anche sui bianchi con il grechetto che è stata la produzione più importante, quasi esclusiva di bianchi per un po' di anni ma non è così storico e autottono come lo era il trebbiano spoletino che abbiamo riscoperto e stiamo ripiantando e stiamo avendo grandi soddisfazioni con questa varietà. quindi stanno crescendo i vini bianchi nel territorio ma abbiamo anche i vini a base di sangiovese, noi ci troviamo in comune, l'azienda è tutto un corpo salvo 9 ettri che abbiamo comprato tre anni fa in comune di Gualdo, Cattane perché abbiamo trovato un territorio di cui ci siamo innamorati e abbiamo iniziato a produrre un cru di sagrantina che uscirà alla fine di quest'anno, quindi io credo che in questo territorio c'è ancora molta ricerca da fare sulle zone, ancora non si conoscono bene dei versanti molto interessanti che fino a sono stati poco sfruttati, tutto avvenuto abbastanza casualmente, questo è un po' il lavoro che stiamo facendo di scoperta di nuovi versanti, per esempio questo è un versante a est che ci interessa particolarmente adesso con il riscaldamento perché è un versante più fresco che dà dei vini molto eleganti su un terreno molto povero, insomma credo che qui ci sono grandi margini di crescita in questo senso. Grazie 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 Grazie